ciao a tutti benvenuti o bentornati sul tubo del degrado è un po di tempo che non faccio qualche video scout sul server giapponese in realtà c'è stato ora anche registrato lo scout per la soup bubbles di mari però purtroppo praticamente ho usato una novantina di gemme tutte gnoli e ho trovato tipo solo la sr credo di ruby del set e quindi il video risultava particolarmente noioso poco interessante quindi ho detto vabbè non lo carico è lo stesso comunque tra le varie cose ho raccimolato 5 sticker dorati come potete vedere ho utilizzato la mari snow fairy oggi siamo qui per fare che cosa dunque per scautare per la nuova limitata come vedete ho farmato come una pazza perché dopo un periodo di qualche settimana dove praticamente non ho quasi toccato il l'account se non giusto per entrare prendermi il login mi sono messa in questi giorni a farmare come una pazza e niente sono arrivata come potete vedere a 167 gemme sono poche però meglio di niente prima però di scautare per questa limitata a aggiungo che non scauterò per questa carta sul lang voglio fare questo che ho preso appunto con la campagna che c'è in corso e dovrebbe essere un ticket tipo un ticket verde dalle percentuali tipo un ticket verde però specifico per le guilty kiss quindi andiamo quindi sicuramente uscirà una rara anzi guardate eccola qui una bella rara però insomma vabbè ok ricco bene abbiamo questi qui che li hanno regalati del mio non c'è niente ne hanno regalati qualche giorno fa questi dovrebbero essere invece essere più ticket esattamente e quindi partiamo con questi qua dopo andremo con mari ok qualcosa che ho già ok ok va bene la sì 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 credo ce l'ho già utilizzata qualcosa di nuovo ok un sr ok carina questa ruby che carina troppo cute anche bella ok andiamo con il terzo ed ultimo qualcosa che mi ha già utilizzato mi confondo con l'inglese non è nuova però vabbè ok andiamo con questo box attivamente mari non è che mi ami granché però insomma ok allora solito 100 carte si parte con la classica percentuale dell'1 per cento per ruclarare e vado inizio con un cinquantino anche perché sennò il video viene effettivamente troppo troppo lungo non c'è stato un attimo di ok due sr probabilmente anche nuove visto che ha caricato vediamo ok chica circus che pensavo di averla già vediamo mi confondo come al solito can halloween vecchia infatti sì che ce l'avevo già can halloween invece è nuova su questo ridevo perché sull'altro vabbè lasciamo stare e andiamo tra l'altro ridò perché quella cana mi era uscita 70 mila volte durante lo scout per mari angel sul lang che ormai risale a due anni fa mi ricordo due anni fa quasi perfetti perché ero in sardegna e avevamo scautato appunto appena arrivate per mary angel vabbè andiamo quel secondo ti prego shiny ti prego oddio non è anche caricato sull'orare no ok 2sr oh no oddio mio verrà cestinata bollino perché ce l'ho già utilizzata la copia chica otto ok io non ho capito se questo perché oggi è saluto 24 non ho capito se andare le 4 lo tolgono cioè andare le 5 scusate login oppure se mi dura fino a domattina secondo me mi dura fino alle 5 e in quel caso non posso più praticamente scautare altro far male eccetera perché non ho più tempo vabbè ti prego mari l'ultimo cinquantino ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego no24 ottima oddio o mio dio non ci credo aaaah ok dai a christmas oddio Sì, grande, grazie, grazie, che bello, finalmente, 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 un segno che Mari forse almeno un pochino mi ama, grazie, grazie. Allora, andiamo a vedere qua i coupon, ok, mi sono messa invece qua tre, no, vado a vendere qualcosina e a raccattare dei BT e poi torniamo per lo scout con i BT. Sì, dunque, ho fatto un po' di pulizia e, niente, possiamo fare ben due scout con i 5 BT, quindi let's go, shot me! Ok, qualcosa che ho già, perfetto, ok, magari qualcosa che ho buttato, ah no, la possiamo utilizzare, sta cica, dai! Colmo serve sotto se fosse stata una serve che ho buttato, ok, qualcosa che ho già di nuovo, un'altra serve. L'ho appena buttata, ah ah ah, che bello, grazie, daia, vabbè, niente, io, cosa c'entra questa Ruby? Ok, io vi ringrazio per aver visto questo video, sono contentissima di aver trovato Mari, e praticamente, ah, vediamo quante carte dalla fine, perfetto, meno della metà, insomma, 3,50, quindi 33 carte, adoro, e, niente, Io vi ringrazio per aver visto questo video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Fatemi sapere se avete scaldato voi per queste limited, sia sul JP che sul Leng, e se avete trovato magari la o le carte che volevate. Ciao! Ciao!